Auguri Steph! Grazie Fede! Come molti di voi sapranno già, oggi è il compleanno di Steph E quindi abbiamo deciso di approfittarne per farvi anche vedere il regalo di compleanno Sono in difficoltà, le fanpage ci stanno facendo un sacco di auguri Tutti su Instagram stanno facendo un sacco di auguri taggandomi Sto avendo difficoltà a rispondere Sto avendo qualche difficoltà, devo essere sincero E adesso come uscirà questo video Fede sarà ancora peggio Su YouTube mi immagino già 2000 commenti Quindi, grazie mille a tutti quelli che mi faranno gli auguri Mi fa davvero piacere, è stato bello già a mezzanotte vedere un sacco di persone che mi facevano Quindi, grazie mille E per chi vuole vedere il regalo che, diciamo, mi sono un po' fatto Un po' mi ha fatto Fede, un po' mi ha fatto mia madre È questo, guardate un po' Opla! Il colore è scelto da Fede Perché a me non mi fregava molto dei colori Perché tanto c'era nero, c'era grigio Allora, lui piaceva grigio chiaro, a me piaceva dorato E non so perché Steph, nel suo regalo di compleanno, ha fatto la sorpresa a me prendendo lo dorato Non so perché ha voluto fare la sorpresa a me Perché sapevo già che tanto a priori l'avrebbe usato anche lei, quindi non ho perso tempo Sì, abbiamo preso l'iPad, diciamo anche 2017 2017, non l'ultimo uscito Esatto, e siamo rimasti sorpresi dal fatto che costasse abbastanza poco Cioè, nel senso, io ero abituato che qualunque cosa tu vuoi dell'iPad costa almeno 700 euro Sì, sì, sì Invece questo costa relativamente poco In ogni caso, l'abbiamo comprato per due motivi Prima di tutto perché ci piace, volevamo un tablet Da un sacco di tempo È davvero, davvero bello Allo stesso tempo, volevamo portare questo gioco Quindi, diciamo che avevamo un doppio motivo Brawl Stars, credo che ormai lo conoscete tutti Però, dai, facciamo partire l'intro, fare e poi ne parliamo del gioco Esatto Perché non ha senso parlarne qua E ragazzi, come va? Io sono Fiere Niki E io sono Steffi, che si chiama Brawl Stars Ed eccoci qui, finalmente Non vedevamo l'ora di provarlo Non vedevamo l'ora di portarlo nel canale E quindi, siamo contentissimi Esattamente Allora, credo che più o meno tutti ormai conoscete questo gioco È il nuovo gioco della Supercell Purtroppo non c'è per Android Purtroppo non c'è in Europa Dato che c'è soltanto in Canada Quindi, per giocarlo bisogna fare un po' di patatrack Però, il gioco sembra davvero carino A me piace un sacco, lo dico già Mi piace un sacco, l'ho provato un pochino Mi piace, mi piace, mi piace Lo so, anche a me è divertito parecchio Forse anche un po' più di Clash Royale Ma proprio per gusto personale Per il tipo di gioco, eh Chiariamoci subito su questa cosa Quindi, quest'oggi lo proviamo insieme a voi Ovviamente, non potrò giocare con Fere Dato che abbiamo soltanto un dispositivo Apple Beh, prendere due, però Però, però, però c'è un però Possiamo giocarlo con i figi Ok, dato che anche lui si è preso un iPad Per poterlo giocare E possiamo registrarlo con Lion Dato che anche lui ha questa possibilità Quindi, comunque, anche se Fere È l'unica che non gioca Fere e Niki Fere farà la tribuna, la tifoseria No, faccio Ce li presenti quelli che commentano le partite? Ok Tipo, nelle partite dei pro In cui giochi che si vedono La telecronaca proprio E fanno la telecronaca Ok Farò quello, sì Sicura? Sì, no Però va bene Io mi sto appassionando un po' Tu non lo diresti mai Fere Ma mi sto appassionando a Jesse Che è una sorta di cecchino a distanza Allora, io direi che li facciamo vedere un po' tutti Partiamo da Shelly, dai Iniziamo da Shelly, dai Quello base Che è il personaggio con cui inizi il gioco Non so come dovrò stare per giocare Forse Non lo so È conviene tenerlo così Vai Ci provo così Ma credo che così farò abbastanza schifo Perché è gigante da tenere in mano Eh sì, eh sì Allora, buongiorno L'obiettivo in questo caso è arrivare a 10 cristalli Che escono, vedete, da quella miniera ogni tot E che possiamo prendere anche ammazzando gli avversari Quando arriviamo a 10 Noi dobbiamo tipo mantenerli per 15 secondi E a quel punto abbiamo vinto la partita È molto, molto carina questa modalità Aiuto E questo è un tank Ok Hai anche l'alti Ho l'alti, ho l'alti, ho l'alti Però voglio recuperare vita Cerchiamo di colpirlo così Non ce l'ho fatta Questo però lo colpiamo Prima che recuperi vita Ultimate E l'abbiamo ucciso Ok Un 40 di vita Nasconditi così recuperi vita Aspetta, aspetta, aspetta Lascia, lascia, lascia Guarda quello lì c'è i spugli che vi sparava le spalle Attenti Eh vabbè Quello è l'altimate di quel panzone lì Io lo voglio troppo E quello è il tuo personaggio preferito secondo me Il personaggio è la mia vita Ahia, 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 ahia Uh, quella era bassissima Vabbè, sì, ci sta Erano in due Ci stanno massacrando Ci stanno massacrando Eh, ho notato, notato È perché sto giocando col personaggio che ho portato più alto E quindi gente un po' più forte E dato che io devo giocare tenendo così Ed è scomodo Riesco a giocare male E quindi Perdiamo la mente Esattamente come sta succedendo in questo momento Ultimate Basta fare Non mi frega nulla di come mi vado in webcam Adesso penso solo a giocare Tengo l'iPad nel modo giusto E provo a vincere Sì, perché è grande È impossibile tenerlo in mano Esatto Come fai? Quindi adesso mi concentro Ok, sei pronta a fare? Sì, voglio che distruggi tutti E se rimuoio subito Ti ammazzo io Faccio una figuraccia Sì, fai una figuraccia Allora, buongiorno C'è qualcuno davanti, occhio Ok 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 Perfetto, è già bassa È già bassa Però Devo stare attento Vediamo se vuole continuare a insistere qua O se ne va da un'altra parte Signorina Mi scusi, è mia? Ok, grazie Prova a prendertela Vai, vai, vai Vedi, ci vuole anche un po' a distruggerle Quindi bisogna Sì, sì, sono belle resistenti È quello il gas che se prendi ti fa danno Guarda cosa succede quando prendi una cassa Ti aumenta la vita e fai più danno Oh, bello Quindi diventi bello forte È molto importante È molto, molto, molto importante Sì, sì, sì Allora, vediamo un pochettino Ok, c'è spugli Che magari c'è qualcuno Lo so Occhio Sei in mezzo a tre casse Secondo me qua dentro c'è la tizia Ecco, lo sapevo Lo sapevo Boom, yes Bravissimo Bravissimo Ok, siamo rimasti solo in sei Cerco di distruggermi questa cassa Per aumentarmi Occhio dietro di te, dietro di te Oh no Mi sono spaventato Ho fatto un colpo a caso Ok, tre di potere non è male Me ne vado un pochettino Sinceramente non so come potrebbe andare con quello lì Uh, buongiorno però Se ti prendo da lontano Non mi dispiace come cosa Buongiorno Guarda i colpi che si sta prendendo Ah, quindi hai deciso di morire Occhio dietro, dietro di te E di darmi tutto il tuo potere Guarda per Vai, vai Non morire Ok Ce lo puoi fare Ce lo puoi fare No, ma c'è tu Per uno Accidenti però Per uno Arrivato quarto Arrivato quarto Vedi come gioco già meglio quando sto messo tutto storto E' più comodo ovviamente E' più comodo E' troppo bello sto gioco Perché è semplice È molto divertente Ma difficile Nel senso che E' molto dinamico Cioè giochi un sacco Mi piace, mi piace Davvero davvero bello Però voglio una vittoria Voglio portarmi a casa una vittoria Allora qua siamo risaliti un po' di coppe Che è una cosa importante Vedi una cosa che ancora non ho ben capito E' una cosa particolarissima E' il fatto che qua tu hai Vedi le tue coppe totali In questo momento io ne ho 142 Però se entri in un singolo personaggio Hai la classifica Del singolo personaggio Per vedere chi è il più forte al mondo Con quel personaggio Eh sì C'è un doppio sistema di ranked Sia col personaggio singolo Sia nel totale del tuo account E' particolare come cosa E' molto molto bellina Voglio diventare il miglior giocatore del mondo Di qualcuno Me ne basta una a casa L'importante è essere lì in alto Allora dai proviamo a vincerci Una partita normale qua Dato che dobbiamo fare un sacco di oro E utilizziamo Vai provo Il bombarolo Il bombarolo No ho messo Jesse Il cechino Il prossimo Adesso giochi tu il bombarolo Il prossimo Non l'hai mai provato Io lo giochi tu No In ansia Io non ci sto qua Sì Non lo conosco È solo quello Ho provato solo il personaggio Base base Praticamente con questo personaggio Possiamo sparare da lontanissimo Eh a voglia Guardate Bim Ok E' difficile per acchiappare Eh sì Perché ha un raggio davvero corto Allora aspettate che recupero Esatto Basso e basso e basso Lo colpisco Sei di vita Morto Ok Ok l'ha recuperata il nostro altro alleato Bisogna prendere le sue gemmine Anche quella che ha lasciato lì È troppo pericoloso Riesca di regalare elettremia Quindi è troppo pericoloso Guarda come sta dietro al muro il furbo Perché lui può lanciarle Attraverso Vedi quello il bombarolo Lancia tutte le bombe Lui si ripara Lancia tutto Esattamente Però ovviamente ha meno range Da tocca Quel vantaggio lì Attento ti copro Ok la kill Perfetto Ottimo Accidenti Aspetta che schivo Occhio 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 Gli metto la torretta là Che inizia a spararlo Guarda 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 Mori Oh yes È morto Perfetto 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 Ok Uh Mi ho mazzato un altro Dai recupero Prendi tutto No 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 Troppo rischioso Mamma mia Sono bassissimo Ok meno male che c'è la mia torretta Che ci ha coperto Vabbè siete a dieci comunque 15 secondi Dobbiamo resistere a questi secondi No attento Non andare avanti Non ci servono quelle Non correre Allora se ti riesco a colpire qualcuno Posso evocare la mia torretta Perché ho l'alti quasi pronta E quindi la utilizzo Per coprirci un pochettino Ok ce l'ho fatta Vinto Guarda qua Dieci a zero secco Jessie è troppo bella È troppo bella Perché praticamente Non solo ha quel raggio Ma se colpisce qualcuno Il colpo rimbalza E continua ad andare E quindi puoi colpire tipo Due o tre persone Con un solo hit Ed è bellissimo Perché fa un sacco di danno E sono anche star player Quindi il miglior giocatore Della partita Eh addirittura Bravo Bravo star Te l'ho detto che dovevo un po' impegnarmi Stavo facendo una figuraccia Qua con i consolini Assolutamente sì Che la stavi facendo Vabbè ma lo sappiamo Che io bella figura Non la faccio mai Esatto Allora vittoria 8 Prima vittoria 8 E rank up Perché sono salito Con l'eroe 10 Quindi ci siamo portati a casa 26 monete su 100 Per aprire un altro baule E sono già a 68 Guarda che forse Riusciamo ad aprirci un altro baule Lo spero Lo spero Se riesco a vincere un altro po' Ce la facciamo Vai continuiamo con Jessie Anna vuoi vedere il bombarolo Sì Scusa Fer Cioè già non posso giocare In più non mi fai vedere Quello che vuoi Ti chiedo perdono Fer La ho accetto le tue scuse Grazie La prossima è col bombarolo Ok grazie Allora andiamo Uh No Ok morto 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 Anche l'altro Anche l'altro Si tira Anche l'altro Preso Morto Bravo Bravo Da lontano Lascia la torretta da qualche parte Per dar fastidio Sì tranquilla Lo so lo so Perché danno parecchio fastidio La metto lì Ok Ok però devi anche difenderla Perché altrimenti è tanto facile Da ammazzare Infatti guarda Però hanno già perso un sacco di vita Per buttarmela giù Si è sposto un sacco Guardale qua Con la vita Boom Ok ce l'ho di nuovo Ok Ce l'ho di nuovo Ce l'ho di nuovo Wow Wow Aiuto Aspetta che mettiamo una torretta va Ok 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 Raccoglietele 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 Capita capita No 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 Non rischiare No Dannazione aspetta Ok l'ho ucciso Pura l'altro L'altro Ovviamente va verso lì Tiro la torretta Continuo Muori Devi morire Ok Guarda Vabbè che bello questo Scappo 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 Ok l'ho fatto malissimo Torretta difendimi Siamo a 10 Siamo a 10 Siamo a 10 15 secondi Ok state indietro State indietro Non c'è bisogno di prendere altre gemme Andate via Andate via Io vi copro un po' Vi do una mano Fate allontanare il panzone Fate allontanare quel panzone 5 4 Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta 2 su 2 con Jesse Incredibile Ottimo Ah E' troppo bello sto personaggio Vero Star player di nuovo Eh Perché il tuo compleanno per quello No fede Perché prima ha fatto schifo Adesso dovevo giocare bene Allora Quindi Ci siamo portati a casa Altri 8 soldini E siamo a 76 Quindi ce ne mancano 24 Proviamo un match Col bombarolo Dai vediamo Se riesco a combinare qualcosa È molto difficile lui Perché per quanto puoi sparare attraverso Diciamo Sopra i muri Comunque sono lenti i colpi Quindi proprio prevedere dove vanno le persone Vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare Loro hanno il tank Ok Guarda subito che danno Quelli stanno già scappando Da quanto gli ho fatto male Sì 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 assolutamente Oh platenette È un po' di esplosivo Guarda guarda come gli arriva in faccia Tieni un po' Ultimate Gli stunda entrambi Boom Vabbè sei morto Me ne hai fatto fuori Una e mezzo Ne hai fatto fuori Sì è bassissimo Ok siamo 4 a 3 per noi 4 a 3 per noi Quindi Dobbiamo fare con calma Uh ce l'hanno ucciso Aspetta C'è andato addosso Boom Ok Aia però non fa troppo male l'alti eh Per quanto è difficile colpire Guarda quanto sono bassi Fere è morto Prendetele tutte Prendetele Ok Bravissimi 8 a 2 8 a 2 Stiamo calmi Stiamo calmi Stiamo calmi Piano 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 Ok sono di nuovo full Allora cerchiamo Soprattutto quello dietro di te che ne ha 7 Occhio Ti puoi uccidere Sto cercando di coprire quello che ne ha 7 E' più importante della mia vita Eh ma è lui che vai in faccia agli altri Stai dietro Lo so Non c'è bisogno Ok Stai dietro Uccidilo 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 Ma come hai fatto a mancare tutti i colpi Ce li avevi a fianco Non lo so Non lo so Ok l'ha ammazzato L'ha ammazzato Stai fermo a recuperare vita Adesso mi fa avere Mi mette l'ansia Lo so Mi mette l'ansia Infatti preferirei averle io Eh davvero Mette l'ansia Ok Ok Perfetto No pensavo fossimo a 10 Forse è morto uno dei nostri Eh mi sa di sì Però sono morto di nuovo anche io Cavolo 8 pari 7 pari No 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 Non morire Ecco qua Aspetta 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 che ce la facciamo Mamma mia il delirio No aiuto Guarda Aiuto Dove è morto Predile 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 Ok Ce l'hai fatto Tira una bomba Ok Non morire Fatelo morire Ok raccogliete raccogliete Ma cosa sta succedendo sto match Non è rimorto Ok arrivo Arrivo Mamma mia Ok perfetto raccogli Ok Facciamoci difendere dall'orso Ok No è rimorto Ok Che succede Che succede Mamma mia Allora in questo momento Gnoio 7 Quindi teoricamente Ce l'abbiamo fatta forse Dai Facciamolo scendere prima che arrivi addosso Ok Così guarda Boom Boom Ciao bello Sì 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 Adesso anche a lui l'ultimate qua E ce la portiamo a casa di nuovo Che partitona questa Che partitona La più bella di oggi La più bella di oggi E sono d'accordo che l'orso è il miglior player Ha fatto davvero un sacco di roba Come vedete Anche si ha messo un sacco di ansia Mamma mia Mamma mia Decisamente troppa Il bombarolo è fortissimo Da lontano E con il fatto che scavaica Sì Però da vicino fa davvero schifo No E vabbè Giusto Quando mi arrivano adesso non sapevo più che fare Giusto Giusto Davvero un'ansia incredibile Comunque dai Io direi che ci possiamo fermare così per questo video Vi abbiamo fatto vedere già un bel po' di personaggi Il gioco è davvero fantastico E noi lo vorremmo giocare in compagnia di Espy e di Lion Quindi fateci sapere un pochettino E anche della mia quando ci sarà per Andrade Eh ma chissà tra quanto esce Fede non lo sappiamo Mi stai già sgregando Guarda io ho letto che la Supercell Perché adesso i consigli di Annes Esce qua Esce là Esce lì L'altro giorno ha detto ufficialmente Non c'è una data ufficiale Non sappiamo neanche noi quando uscirà Quindi Eh Bisognerà aspettare un po' Aspettare 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 Però comunque Anche Ferre potrà giocare qualche game Adesso la farò allenare questi giorni con le pad Vi faccio l'account anch'io Ho capito Nelle pad E gioco per conto mio Mi piace Mi piace Mi piace Quindi lasciateci un bel commento E fateci sapere con il sondaggio Se vorreste vedere altri video su questo gioco Fateci sapere se vorreste vedere giocare Ferre Fateci sapere se ci vorreste vedere giocare in compagnia di Espy e di Lion E noi ci fermiamo così Bene ragazzi Se non ci usissi è tutto Lasciateci un like E questa è la prima volta che ho detto il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao